Ciao! Riuscire a produrre uno swing costante, preciso e potente non è facile. Vi invito a scoprire come modificare la vostra postura per farlo. Parte inferiore del corpo. Parte superiore del corpo. Fondo della nuca. Piedi. Posizionamento del bastone. Piedi. 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 Polsi. Allineamento. Intenzione seguita da impulso. Rimbalzo. Sequenze. Sotto consapevolezza. Percorso del bastone. Potenza. Potenza. Conoscenza. 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 Potenza. Potenza. Conoscenza. Riassunto. Osservazioni. Dimostrazione. Motivazioni e ringraziamenti. Ora tocca a te giocare. Osservazioni. Osservazioni e ringraziamenti.